Sì, sì, sette, tredici. Bene, allora il risultato è Franceschini, Ivana, tredici voti. Schede bianche, sette, viene pertanto nominata Presidente del Consiglio Comunale la signora Franceschini, Ivana. Grazie a tutti. Grazie consigliere Rambuschi, accetto la nomina. Buonasera a tutti consiglieri, sindaco, componenti di giunta e pubblico in sala. Come è già stato ricordato, il Consiglio Comunale è l'organo cui compete dare indirizzi ed esercitare il controllo politico-amministrativo e io ringrazio tutti coloro che mi hanno dato fiducia e consenso e mi hanno eletto a presiderlo. Sono ben consapevole dell'importanza di tale carica e della responsabilità che mi è stata affidata e per parte mia cercherò di essere all'altezza del compito. Voglio subito dire che a partire da ora intendo essere il Presidente di tutto il Consiglio, senza distinzioni tra maggioranza e minoranza, e per raggiungere questo obiettivo conto anche sulla collaborazione dei consiglieri. Coordinerò le varie fasi dei lavori dell'Assemblea, così come stabilito dal nostro Statuto e dal Regolamento, ma sono sensibile ed ascolterò anche le istanze e le proposte che in segno istituzionale mi verranno avanzate. Nell'interesse della cittadinanza tutta che rappresentiamo, spero faremo in modo che le differenze che ci contraddistinguono, qualunque essi siano, vengano manifestate e sostenute con un linguaggio e comportamenti consomi al mandato che ci è stato affidato. Nel rinnovare il mio grazie, auguro a tutti noi un buono, sereno e proficuo lavoro. Allora, soltanto l'urgenza e il provvedimento, invito i colleghi a votare l'immediato di eseguibilità in forma palese per l'alzata in campo. Votanti 20, favorevoli 20. La delibera è importante dichiararla immediatamente esecutiva. Adesso, come previsto dallo Statuto Comunale, lascio la presenza al mio eletto e prendo posto ai tavoli consiglieri comunali del gruppo del Popolo della Libertà. Rivolgo un ringraziamento a tutti. Grazie.